Pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Il decreto rilancio è un decreto legge d'urgenza del governo. Cosa c'è di così urgente da scavalcare il Parlamento nel bonus monopattini, nella lievitazione delle poltrone delle società pubbliche e nella sanatoria dei clandestini? Abbiamo ancora una Costituzione in Italia? Si chiedeva a Giorgia Meloni nel maggio 2020, quando era ancora solo il capo di Fratelli d'Italia e stava all'opposizione. Poi qualcosa è cambiato. Meloni è diventata Presidente del Consiglio e improvvisamente tutte le cattive pratiche del passato, compresa quella dei cosiddetti decreti omnibus, sono state rivalutate dalla maggioranza di destra centro. Al punto tale, però, che nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è comprensibilmente allarmato e ha convocato i Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio Garruzza, per invitarli a vigilare e a evitare lo svilimento del Parlamento. Negli ultimi anni il numero di leggi ordinarie approvate si è drasticamente ridotto, scrive Open Police in un suo recente dossier. Il rovescio della medaglia è stato un significativo aumento nel ricorso alla decretazione d'urgenza, non solo per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche per implementare il programma di governo. Una dinamica che ha caratterizzato tutti gli esecutivi che si sono succeduti alla guida del Paese, ma che si è consolidata in particolar modo con l'esplosione della pandemia. Successivamente a questo evento catastrofico, infatti, gli esecutivi hanno ulteriormente concentrato su loro stessi anche l'attività legislativa, attraverso una produzione sempre più massiccia di decreti legge. Il ricorso alla decretazione d'urgenza in quella fase era apparso comunque eccessivo, seppene giustificato dalla situazione d'emergenza. Tale dinamica tuttavia si è consolidata anche successivamente, tanto che la produzione di decreti legge è rimasta ingente, anche cessata la fase più critica della pandemia, e ha trovato conferma anche con l'esecutivo. Attualmente in carica, scrive ancora Open Police. Il governo Meloni ha pubblicato 25 decreti legge in sei mesi, dato aggiornato al 17 maggio 2023. Nello stesso periodo sono state approvate solamente cinque leggi ordinarie. L'attuale esecutivo presente al dato più alto di decreti legge è pubblicato in media al mese 4,17 tra i governi delle ultime quattro legislature. Con il governo Meloni passano in media 4,5 giorni tra la deliberazione del decreto e la sua effettiva entrata in vigore. In alcuni casi si superano le due settimane. Le situazioni emergenziali da gestire non sono mancati in questi primi mesi della nuova legislatura, nota ancora Open Police. Tuttavia, occorre rilevare anche che in molti casi si è scelto di legiferare con decreto anche per provvedimenti di natura più politica. È il caso, solo per fare alcuni esempi, del decreto legge contenente le misure in tema di lavoro, di quello per il riavvio della progettazione per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Interventi che non hanno una natura emergenziale in senso stretto e che quindi avrebbero potuto essere approvati attraverso il ricorso all'iter legislativo ordinario. Tale scelta, scrive Open Police, conferma la volontà dell'esecutivo di cercare di far approvare i provvedimenti così come delineati nell'ambito del Consiglio dei Ministri, limitando il più possibile i momenti di confronto, sia dentro che fuori dal Parlamento. Quel che ci si aspettava da Giorgia Meloni, osservo io e per la verità ancora ci si aspetta, è una ripoliticizzazione del dibattito pubblico a partire da quello che dovrebbe avvenire in Parlamento. sarebbe la persona giusta, in teoria dopo le alternanti fasi di governi tecnici, a meno che dietro l'idea presidenziale e presidenzialista di questo governo, di cui abbiamo parlato anche qui sulle pecore elettriche, non si cieli il tentativo mascherato da volontà di efficienza di sottrarre la legge alla discussione e al confronto parlamentare.